Siamo alla vela, l'imbarcazione euristica del circolo nautico Bari ha vinto la 18esima Coppa Cus, la regata ha visto impegnate oltre 30 imbarcazioni nello specchio d'acqua antistante in lungomare di Bari dal nuovo molo di San Girolamo Fesca verso nord, boa di giro a Giovinazzo per rientrare a Bari sulla stessa linea di partenza per circa 17,5 miglia marine. Le poco favorevoli condizioni del mare hanno reso particolarmente impegnativa la gara.